Io informerò, io oltre a che oppormi nelle sedi amministrative, e io auspico e chiedo che sia anche la Regione ad opposti, perché prerogative previste dalla Costituzione italiana non sono state rispettate dal Ministero del Sviluppo Economico e la Regione deve fare opposizione. Io informerò la Procura, perché secondo me non si possono distorcere le leggi in base a pressioni o frizzative d'occhio, come l'ha chiamata lei, da parte di società privata. Se la Regione Puglia ha, in un certo senso, la buona sede e quindi non ha potuto esprimere queste soluzioni alternative, bene, impugni questo provvedimento, che è una determina che è uscita il 26 gennaio, strumentale alla udienza del Taro, Sitaro Taggi, dell'altro giorno, dove si è presentata l'Avvocatura Generale dello Stato a difendere TAP. Dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni, io continuo a considerare che c'è un giudice a Berlino.